Questo è il rigorometro di Mauro Icardi Con solo una tripletta alla Fiorentina Adesso c'è il simbolo Si aspetta prima di battere Perché avete visto Tagliavento Ha fatto il segno, stanno facendo la review Stanno guardando l'episodio Fa un'altra volta E si è rigore, ok, confermata la scelta di Tagliavento Calcio di rigore, Icardi contro Sportiello Ora si può andare, c'è il fischio Va Icardi